Vediamo com'è possibile creare una ruota dentata meccanica o altri tipi di forme all'interno di After Effects unendo i tracciati. Innanzitutto, come possiamo vedere, la nostra composizione è vuota, per cui la prima cosa da fare è cliccare con tasto destro e dirgli che vogliamo creare un livello forma. Questo livello forma ha l'anchor point nel centro ed è vuoto, perché ha dei contenuti, ma la cartella contenuti è vuota. Per cui la prima cosa da fare è aggiungere un contenuto. Aggiungiamo un poligono stella che è anch'esso vuoto, per cui vado ad aggiungere un riempimento che di default è rosso e un tratto che di default è bianco. Ora, questo riempimento così rosso francamente mi irrita un po' la vista, per cui lo vado a smorzare un pochino, mentre la traccia va sempre bene. Apriamo il tracciato e io lo modifico. Voglio che la mia stella abbia 12 punte. Vado ad agire sul raggio interno e sul raggio esterno in maniera tale da ottenere una forma che mi vada bene. Così diciamo che va bene. A questo punto, di nuovo andando ad agire sul bottone aggiungi, vado ad aggiungere un'ellisse. Come vedete me l'ha aggiunta nella stessa posizione. Ora io posso andare ad agire sulla dimensione dell'ellisse e la ingrandisco fino a farla sbordare, dove mi sembra opportuno. A questo punto la ruota dentata potrebbe già essere qui. Quello che devo fare è semplicemente dirgli che voglio unire le forme. Per cui vado su aggiungi e gli dico unisci tracciati. Unisci tracciati si posiziona al di sotto, questo perché unisci tracciati avrà effetto su tutto quello che c'è sopra, insomma il contrario della Creeping Mask di Photoshop. Io vado ad aprirlo e qui vado a dirgli interseca. E quello che è successo è che mi ha nascosto tutto quello che è esterno. A questo punto voglio creare un'altra ellisse per continuare nella mia creazione. Per cui la creo e mi è stata messa sopra. Io la devo portare sotto per evitare che l'effetto di questo unisci tracciati agisca anche su questa ellisse. Per cui la porto sotto, la ingrandisco fino a smorzare queste rientranze. In questo modo vedete che già si intravede la nostra ruota dentata. Però io vedo questa traccia che si sovrappone. Allora che cosa devo fare? Di nuovo vado a unire i tracciati e di nuovo me l'ha posizionato sopra, mentre io lo voglio sotto. Perché quello che è sotto agisce su quello che è sopra. E in questo caso gli dirò aggiungi. Infatti in questo modo ha unito ed è diventata diciamo lo scheletro della nostra ruota dentata. Ma non abbiamo ancora finito. Andiamo ad aggiungere un'altra ellisse. E di nuovo la portiamo sotto. Stavolta la voglio ingrandire di nuovo un altro po'. E nuovamente vado a dirgli unisci tracciati. Perché ogni livello deve avere necessariamente una nuova regolazione a questo punto. Vado ad agire su unisci tracciati e andando a sottrarre questa volta ottengo il foro della mia ruota dentata. A questo punto posso fare un ulteriore passo aggiungendo di nuovo un poligono stella. Che di nuovo devo portare sotto per evitare che venga effettato da questo unisci tracciati. Questo poligono stella vediamo un po'. Cosa gli diciamo? Sei punte. Aumentiamo un po' il raggio esterno fin dove è possibile. Magari diminuiamo un po' quello interno. Ok. E come potete vedere la traccia sopra è ancora visibile. Quindi che cosa faccio? Di nuovo gli vado a dire unisci tracciati. Lo metto sotto finché agisca su quello sopra. E in questo caso gli dirò aggiungi. Era già su aggiungi perché aggiungi è il default. Bene. Abbiamo creato la nostra ruota. A questo punto la nostra ruota può ovviamente essere animata tramite lo stopwatch di rotazione. Quindi io posso impostare, faccio partire lo stopwatch, mi porto a 3 secondi e a 3 secondi gli dico che deve aver fatto un giro completo. A questo punto la mia animazione è questa. Mi mettiamo anche un po' di sfocatura. Per esempio la nostra ruota è un po' di sfocatura. Questa è un po' di sfocatura.